Allora, adesso vi facciamo vedere il punto massimo, diciamo, di un certo modo di concepire La House Music, House Music, House Music, House Music La bomba inaudita, mi pare che si chiami così? La House Music, House Music, House Music Si parla sempre di volume Dunque bisogna dare la bomba La bomba inaudita Allora, dai, vai La bomba inaudita Allora, dai, vai Allora, dai, vai Allora, dai, vai Basta, per carità, basta, basta Allora, dai, vai Allora, dai, vai